Musica Benvenuti all'appuntamento con fratello Francesco Zambotti, sacerdote. Bentrovato. Grazie, bentrovati a tutti voi. Ogni settimana, ogni volta cerchiamo di andare a trovare quei consigli, quei suggerimenti, quelle piccole cose che possono servire, aiutare ogni persona magari nell'affrontare la vita quotidiana, come se fosse un piccolo boccone da assaporare e da poter utilizzare davvero ogni giorno per affrontare anche le difficoltà. Sì, certo è importante, diciamo così, specialmente nella realtà sociale che stiamo attraversando, trovare un pezzo di pane di speranza da poter donare agli altri, soffermarsi e riflettere un poco perché diventa molto importante avere questa capacità di masticare anche le cose dello spirito in un contesto dove facilmente siamo assorbiti dalle tante cose che poi hanno così una valenza anche molto ridotta. È vero, la realtà ci offre sempre tanti spunti di riflessione e uno sicuramente oggi ci viene dato da uno scritto che ho già in mano fin dall'inizio, che è uno dei prodotti di fratello Francesco, di padre Francesco, perché Francesco che è lo storico fondatore delle tende di Cristo, qui ci troviamo vicino a Casa Paola che è una delle ultime nate, forse proprio l'ultima? No, in provincia di Cremona. Sì, sì, l'ultima in provincia di Cremona ma già stiamo lavorando in quel di Vicenza e poi altre cose insomma che saranno, prenderanno la luce più avanti. E questa è una delle ultime nate, proprio davvero letteralmente, la leggiamo insieme e poi la commentiamo. Va bene. È dono dello spirito gioire per dimorare nel giardino verde della tua volontà, dono del profumo di Dio dove il riposo rinfranca l'anima. Sì, sono un po' le mie meditazioni ogni mattina quando mi alzo un po' prestino, poi ho il tempo di pregare, di dire le lodi eccetera e quindi è facile che così di impeto spontaneamente nasce qualche pensiero così che metto su carta perché mi pare anche bello per poterlo poi farne dono a quelli che so che possono effettivamente sentire come una cosa bella, fresca, come un pezzo di pane fresco che profuma ancora, come adesso è un pochettino più raro però quando si passa davanti a una panetteria senti un profumo fresco di pane che sta per essere sfornato ti viene la voglia quasi di e quindi il gusto anche non tanto di mangiare i biscotti, le briose eccetera ma piuttosto un pezzo di pane autentico ecco e così diciamo così io vivo questa esperienza che dono del Signore e quindi di getto metto giù quelle due parole perché mi pare giusto averne la possibilità di farne dono come ho detto già prima agli altri. In particolare questo io capisco lo stare nella volontà di Dio perché a volte la volontà di Dio può essere dura ma può essere perché è tale la volontà di Dio ma può essere anche perché noi non siamo pronti, disponibili ad accogliere questa novità che avviene giorno per giorno perché è una cosa interiore un conto sono le manifestazioni, le azioni, il servire che noi si fa nei nostri fratelli ma poi altra cosa è questa adesione interiore alla volontà di Dio quello è il vero sostratto della volontà di Dio e quindi io dico che dono dello Spirito ed essendo dono dello Spirito produce gioia gioia, luce, amore, speranza e dono dello Spirito arrivare ad accogliere la dimora che è lui, lo Spirito Santo che è Gesù nel giardino verde della tua volontà. Quindi questo santino ricordo bene che mi sembra di essere in una realtà di verde quasi diciamo così anche sdraiato su una panca o seduto su una sedia immaginaria così dove ero quasi immerso nel verde e quindi è questa gioia di essere in questo verde che è veramente la volontà di Dio quindi è forse anche un po' la capacità di adattarsi in quel momento ad una determinata realtà anteriore che è dono dello Spirito e quindi la volontà del Signore non è che sia poi perché il Signore ci fa dono di queste cose, non ci dà mai dei pesi superiori a sono gli uomini che costituiscono a volte dei pesi troppo grandi, sono problematici persone che non sono più capaci di vivere profondamente quel supporto interiore che diventa capacità anche di ascoltare l'altro e di dire la parola giusta perché è anche magari la soluzione vera, reale e profonda della volontà. Però certe prove sono davvero dure che possono capitare insomma durante la vita un grave lutto piuttosto che altre situazioni, quelle sono però pesanti. Sì, è vero, è vero, questo è verissimo perché per esempio qui è una persona che l'ho accolta dall'ospice per i suoi ultimi giorni che desiderava di entrare in un luogo con spiritualità ed è qui e già quasi c'è stata una ripresa eccetera. Questa mattina per esempio ho telefonato a un amico che è a San Raffaele Milano, anche lui per un'operazione molto difficile, l'operazione è andata bene. Allora gli ho letto proprio questa preghiera, dico se vuoi, ti leggo una preghiera e lui ha detto Sì, è vero, dobbiamo salire dalla realtà difficile, per esempio della malattia e forse a volte ci dimentichiamo di metterci in un contesto di Dio. Questo aiuta molto ed era molto contento di questa lettura che gli ho fatto, che ho dedicato a lui. Ecco, quindi anche questo è molto importante perché a volte noi viviamo proprio il fatto di essere troppo terra a terra e non diamo spazio allo spirito. La materialità sono a volte delle esigenze però quotidiane, di tutti i giorni. E' giusto perché la nostra corporeità, la nostra realtà terrena ci porta a delle necessità, devo dormire, devo mangiare, devo comunicare, devo ascoltare, cioè questo è una cosa nel gioco della realtà, una cosa bella, stupenda, anche questa sempre deve essere attuata in un certo modo. Ma oltre questo noi dobbiamo attingere, è come se uno mangia, mangia ma non beve mai niente, non beve acqua e a un certo momento il corpo ha bisogno di acqua, quindi la vita ha bisogno di Dio e dopo dipende anche come uno prende Dio, come spesso lì è offerto anche dalla viella della Chiesa e quindi diventa importantissimo il fatto che come è presentato Dio che non deve essere come era visto nell'antichità, diciamo così, come un Dio che sopprime, che castiga, che punisce eccetera, non è vero questo. Dio ci ama, è questione di entrare in questa logica, di questo fascio di luce che ci dà veramente la possibilità di sorreggerci e di credere veramente che non siamo affatti per stare su questa terra. Ci lasciamo dunque oggi con questo pensiero? Sì, la corporeità, ma Dio deve entrare in gioco in ogni momento della nostra vita, allora noi sentiamo questo respiro, sentiamo che Lui esiste e la vita diventa più gioiosa. Grazie, ringraziamo fratello Francesco Zambotti, sacerdote, grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.